Le cose sono due. O lo giro adesso in queste condizioni in video o mi riempio la casa di spazzatura. Ho deciso, come ben vedete, di girarlo adesso. Quindi perdonate le sembianze, come sempre. Ma volevo farvi il video sui prodotti finiti, perché quella borsa sta a scoppiare e io mi sto a buttare la roba un po' su tutti i mobili. E direi anche che non è il massimo, proprio siccome già c'è un po' di disastro punque, cerchiamo di limitarlo almeno. Allora, cosa ho finito? Ho finito, abbiamo finito queste farfalle integrali del DEM. Le ho comprate di farina di grano duro, appunto, originali italiane. Le ho comprate proprio perché appunto, siccome Gaia ormai ha due anni, può mangiare anche le integrale. Poi con il problema che ha, è consigliato non mangiare raffinato. Quindi devo dire che sono molto buone, tengono la cottura, non cuociono in 9-10 minuti. Secondo me ci mettono un pochino di più, però sono buone, hanno un buon gusto, diciamo, un pochino più forte, deciso. E soprattutto, appunto, non si spappolano. E si cuociono anche bene in mezzo nell'attaccatura delle farfalle, che generalmente non si cuociono mai. Poi ho finito anche questo pacco, che voi non capirete di che cosa sia. Però sono le orecchiette del Lidl. Mi sembra della linea deluxe. Allora, io era uno o due giorni, settimane scorse, che avevo voglia di orecchiette. Ma qua non le trovi facilmente. Siamo andati per caso in un negozio, in una città grande, dove c'è un Lidl più grande rispetto al nostro. Ed erano lì. Mi chiamavano. Sì, erano quelle con le spezzette già dentro, tipo il pacchettino appiccicato sopra, con aglio e peperoncino. Ma vuoi fare le orecchiette a aglio e peperoncino? Ma tedeschi? Ma cosa capite? Ma no! Che poi vabbè, sono prodotti in Italia, quindi italiani. Perché vendete cose del genere all'estero? Fatto sta che sono molto, molto buone. E io amo le orecchiette. Non avevo un certo tempo di fare le orecchiette. Poi, un giorno, siccome avevo finito le farfalle integrali, non avevo tempo di andare al DEM, mi sono trovata in un supermercato qua, e integrale c'era solo questa pasta qua della barilla, le pennette, rigate. Ma, secondo me, non è niente di emozionante. Poi, vabbè, non piace comprare la barilla. Costa tantissimo, non so la provenienza del grano, so che hanno venduto l'azienda, comunque so che ormai non utilizzano più un grano italiano. Vabbè, ok, non ci sarà neanche il grano italiano qua, suppongo, perché vabbè... Ah no, vedi? Vedi? Qua c'è scritto che il grano proviene dall'Italia. Bravissimo! Vieni amore? Ancora! 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 Ah, poi basta, eh! Ma dimmi te! Eee, scusate. Eee, quindi no, la barilla non la compro quasi mai. Un fascio di... No! Ok, basta. Poi, non c'entra niente con le cose mangerecce, però per chi sta qua in Germania, io ultimamente ho cambiato un pochino la routine per il lavaggio anche delle cose in lavatrice, proprio per il problema di Gaia. Sto utilizzando dei prodotti un pochino più forti, cosa che prima invece utilizzavo quasi tutti i prodotti naturali, o comunque utilizzavo il bicarbonato, l'aceto. Soprattutto per le divise del mio compagno da infermiere, che sono bianche, non venivano mai molto... Rimaneva sempre un aroni grigiastro. Anche io, se l'avo comunque, io l'avo tutto separato, però nonostante quello mi rimanevano sempre un pochino grigiastre. Ho provato a comprare questo qua, della Denk Meat Oxi Power, Power Wise, che è appunto una special di, penso, Vanish, una cosa del genere, però costa meno. E devo dire che effettivamente sbianca un sacco. E solo che io, avendo tante robe bianche, non mi è durato molto. C'è il suo dosatore all'interno. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, però ragazzi, davvero, se siete in Germania e avete problemi con l'acqua, che è molto piena di calcare, l'italiano sempre lo perdiamo, stella per strada, e quindi tende comunque anche a ingrigire i capi bianchi, proprio l'acqua di per sé. Provatelo perché è ottimo. Poi, adesso arrivo la busta, ho finito il latte di avena, quello non calcificato, eccetera, che mi trovo sempre bene, ce n'è un goccio, ma non esce mai quel goccio, infido e valengo. Rimane sempre al fondo, mi trovo sempre bene, compro sempre quello del Dem. Poi, ho finito le lenticchie rosse decorticate, con cui ci faccio delle zuppe fantastiche, polpette, polpettoni, di tutto. Sugo, ragù, ragù vegetale. Poi, questi sono una droga! Mi avevo smesso di comprarli perché ogni volta che li compro li finiscono due giorni. Ed è così è stato. Sono questi buffer al cioccolato. Dimmi, amore. Mamma, sì! È morerotto quello lì, patata? No, che li brucia! Aspettate un attimo che mia figlia vuole cercare di chiudere il cassetto. Molto bene, mi distrugge da casa per poter fare il video. Comunque, non li compro spesso perché sono una droga, sono buonissimi. Sono questi buffer vegani nuovi della linea... Adesso ve lo dico perché ogni volta sbaglio. Manner, non è banner, mi sembra una W invece una M. Sono buonissimi, sono qualcosa di godurioso. Poi, ho comprato anche questi qua, vegani sempre, shoko cakes al dem. Ma devo dire la verità che a me non sono piaciuti tantissimo. Non sono cattivi, però per il prezzo che hanno e la quantità che hanno all'interno, non sono niente di che. Sono più buoni quelli che faccio in casa io. Oddio, c'è Gaia. Però, appunto, non li ricomprerò quelli, devo dire la verità. Questi invece li ricomprerò fino a quando li faranno e poi vorrò riprodurli in casa. Infatti ce ne sono ben due confezioni. E sono sempre della linea Vegans. Gli Speculatius. Gli Speculatius. Però vegani sono buonissimi. Ragazzi, sono qualcosa di godurioso. Sono buonissimi, speziatissimi, friabilissimi. Oddio. Poi, sempre a livello di cose per la lavatrice, ho voluto provare sempre della Denk Meat. Io mi trovo bene con questi prodotti della Denk Meat. Non hanno né arte né parte, però vabbè, costano poco rispetto agli altri e mi ci trovo bene. Ho provato questo ammorbidente alla pesca. Alla pesca. Appena l'ho preso, ho detto, ma perché ho preso una cosa così che sa proprio di pesca? Invece sui capi, ragazze, se siete in Germania, provatelo perché dura un sacco il profumo ed è buonissimo. S'è proprio di buono. Mamma, ma che caia ho io? La forchetta di caia è quella, sì. Poi, ho finito anche questo succo di aloe vera, quello che vi avevo inserito in un video dei prodotti preferiti. Ho continuato a comprarlo, però devo dire la verità che adesso non lo compro più. Perché comunque non ho trovato tutti questi benefici atroci per andare a spendere 5 euro quasi per 330 ml. Sì, ne serve davvero poco il giorno da prendere, però no. Poi ho finito anche la quinoa, quinoa, dalla buona terra, me l'aveva data mia mamma quando sono andata in Italia e devo dire che è molto buona. Qua dice che è ricetta rapida, è della pedon, comunque una quinoa, una quinoa vale l'altra. Perché ho capito che si dice sulla o l'accento un po', non lo so. Ma che apri, no no? No, no, mia figlia mi sta smontando casa, ragazza, aiutatemi! Benissimo, cosa ne verrà fuori non lo so. Ho finito queste patatine che vi ho fatto vedere in un video vlog, che sono un qualcosa di godurioso. del Reve e sono appunto quelle con rosa, pepe nero e pepe rosa, ragazze, sono buonissime. Sono che costano davvero tanto per la quantità che ce n'è dentro, però sono una droga. Poi, latte mio preferito, che però non compro spesso perché costa molto di più rispetto agli altri. E uh, ce la fai a uscire. Mori pure, tranquilla, non ti preoccupare, tanto non stai mica pubblicando un video per YouTube, stai parlando con una tona, proprio così. Allora, latte, quinoa e riso. Se sentite rumori di sottofondo, è mia figlia che fa i travasi montessoriani con i fagioli e me li sta buttando allegramente tutti per terra perché lei non le piace fare. A lei non piace fare i travasi, le piace spattare per terra i fagioli. Benissimo, stella stai calma. Latte, quinoa e riso del quinoa, stella, quinoa, non sei alla moda. Della prova, Mel. È buono, è buonissimo, ragazze. È proprio molto, molto buono. Molto più simile al latte normale, se proprio siete delle persone a cui non piace il latte vegetale. Però costa troppo. Cioè, io preferisco prendere gli altri. Poi, in Italia, mia mamma mi aveva portato in ospedale questi cracker qua, perché siccome non mangiavo, però alla fine li ho mangiati qua in Germania, in ospedale avevo lo stomaco abbastanza chiuso. E sono appunto della galbusera, sono al mais e sono senza olio di palma e con lievito madre galbusera. Devo dire che sono molto buoni, ci sono proprio buoni. Poi col fatto che qua in Germania non si trovano facilmente, non esistono proprio i cracker, se non appunto in vasa. No, no. È una bestemmia, non sono cracker i vasa. Non sono cracker. E quindi quelli lì erano davvero buoni. Poi, questi qua, chi li ha mangiati questi? Non li ho mangiati io, non li ho mangiati neanche Gaia, sono i Savoiardi del Lidl. Benissimo, li mangiava mio padre, quindi rendetevi conto, quando è venuto qua, rendetevi conto da quanto ho questa cosa. Poi, le noci pecan che io adoro, le utilizzo per qualsiasi cosa, così, nei dolci, negli spuntini, un po' ovunque. Poi, no, ho finito anche il miglio del dem, con cui ci faccio sempre. Io ho i cereali, i pseudo cereali, li utilizzo davvero per qualsiasi cosa, non solo così per insalate o per, tipo, sostituire la pasta, ma proprio per farci polpette, polpettoni, tortini, di tutto, di tutto. Biscotti, di tutto. Poi, la farina di ceci del molino chiavazza, che è quella che mi porta sempre mia mamma, perché qua costa un ciulo. Queste qua, ve le ha regalate una mia amica in Italia, sono le saliette Fria Utility Baby. Ragazze, sono un qualcosa di portentoso, umidissime. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non capisco amore, non capisco io. Mia. Cosa ti ha? Mia. Metti un po' i fagioli dentro, signorina. Mamma mia. Via, via. Scusate le interruzioni. Comunque, sono davvero buonissime, ragazzi. Sono imbevute di prodotto, puliscono benissimo. Hanno un profumo bello, nel senso che è deciso, ma non è di quelli che dà un fastidio. Quindi, ottima. Amore, ma queste immondizie, amore. Ma la mamma la deve buttare, queste immondizie. Non posso dartela, è brutta. Guarda che chifo, buuuu. Buuuu. Mamma mia. Dimmi. Mamma mia. Ma perché via? Dove vuoi andare via? Via. Ma la borsa. Ma no, la borsa. Adesso la mamma la butta. Vedi che sta facendo... Ve lo vedi, amore, cosa sta facendo la mamma? La mamma è un po' matta, no? E allora, prima di buttare l'immondizia, non come tutte le persone normali, che quando finiscono le cose le buttano, fa il video, perché deve far vedere quanta immondizia procura la Germania, hai capito? No. No? Pensate che sono folle. Mamma. Dimmi, ho anche questo da buttare, dammi, amore. Grazie. Bene. Gaia ha finito il solito succo. Questo qua era misto con addirittura la barbabietola da zucchero, la barbabietola rossa, e le è piaciuto. Mamma mia. Ma non è stato... Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. La biorucola del Reve è un qualcosa di favoloso. Mamma mia. La borsa, la borsa la mamma la butta adesso. Aspetta che ho finito, amore. Farine, come sempre ho finito farine del Dem, che sono quelle che preferisco. Mamma mia. Poi ho finito anche i fiocchi da bere integrare. Mamma mia. Cosa c'è? Mamma mia. Vuoi venire in braccio. Aspettate ragazze. Ok ragazze, prendetelo per com'è questo video, non ce lo faremo mai. Chi ha bambini piccoli mi può capire. Ho finito anche questa vena integrale, appunto i fiocchi da vena integrale della linea Bio, che so che si trova anche in Italia questa marca qua. E devo dire che questa volta non aveva tanti pezzi di buccia all'interno. Poi la solita pasta alle lenticchie, che preferisco rispetto a quella dei ceci, perché secondo me quella dei ceci è un pochino troppo granulosa. Si sente la differenza. Poi quintali di legumi, i fagioli bianchi, gli azuchi rossi, le lenticchie di col fiorito. C'è un disastro qua dentro. Poi qua c'è ancora farina, che non vi interessa. Ho finito anche la farina di cocco del Lidl, che è quella comunque che conviene di più, perché ce ne è tanta dentro. La farina di cocco, il cocco rapè, quella roba lì con cui posso fare un po' quello che voglio. Nel frattempo vado a ravanare, ragazzi, ho paura di trovare tipo dei topi morti. Ho finito gli anacardi. Sempre del Lidl. Morti, sì, amore. Madonna, il disagio che c'è qua dentro. Sempre del Lidl e sono buonissimi gli anacardi, io li adoro. Il bicarbonato che utilizzo un po' ovunque, sia per disinfettare, quindi per pulire casa, che per cucinare come a posto del lievito, un po' per tutto. E poi basta. E poi ho finito la lavazza, il caffè lavazza, che è quello che compriamo qua, crema e gusto, perché è quello che costa meno. E devo dire la verità che ce ne sono tante di caffè tedeschi, ma io non li conosco, quindi preferisco prendere il lavazza. Basta, ragazzi. Ho fatto questo video, finalmente posso buttare sta busta. Non immaginate la mia contentezza di oggi di non vedere sta busta attaccata un po' ovunque. Spero di avervi tenuto compagnia, voi lo fate sempre con me. Scusate se i miei video sono sempre poco professionali, ma io ci metto tutta la buona volontà, ma già di per sé la mia persona non riesce a essere professionale. Poi ho una bambina che ha un piccolo terremoto, e niente, alla prossima. Ciao! Ciao!